Postazione 17 Alle spalle della postazione 16 e proprio per questo motivo spesso scelta da coppie di amici che prenotando le due postazioni riescono a collocare il campo tra di esse. Anche questa postazione, come la 16, è molto spaziosa per cui non ha alcun problema per il collocamento delle vostre tende. Guardando il lago vedrete sulla vostra destra sponde ricche di vegetazione e alberi, un'ottima ombreggiatura e un paio di legnaie in acqua, spot sicuri ma difficili da affrontare. A centro lago potrete trovare alcuni erbaie ninfè, sulla vostra sinistra il canalone di collegamento con la postazione 16 e una sponda vegetata e ricca di alberi. Potrete spingervi nella ricerca di spot fino all'inizio della piccola ansa alla vostra sinistra, che delimita il vostro confine con la postazione 19.